ok ci siamo siamo quindi al finale abbiamo sconfitto Genova a tomatoclon è un po' brutto bellissimo sto posto la sciacca non era ancora finita ma è però una battaglia a Claude e Zack bianco bianco Sempilot ma si fai tu Sempilot ma ci si è chiaramente il do di Amaus per questo stile musicale sembra fino a Fantasy 3 ma un po' bello che spettacolo oh Claude è piena vita qui ci vorrà reazione con Zack oh e Zack cosa può fare? carica? ma non è il momento di fare tutto ora veramente è un ex solido resisto il tuo oro ma non è è vero provenghi vedi via 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 Non usiamo tanti minuti. Io voglio vedere le Zac in azione. Ma io ora. Quante le ha le abilità? Ma è pazzesco, Zac. Deccato che si va a prendere come nulla fosse. Non usiamo i giudizi. Dovrei con il clove fare il curatore, sull'acqua. Fa ora! Posso perdere? Fai a ottacolpo! Era imparabile questo! Allora... Se io usassi invece... qualcosa di forte, tipo... Nida Proviamoci ora! Vai, mi sembra molto ideale! Sinergic! Quasi da più stretto, dai! Vieni! Magari lo uso male, se io... Claude... Ma... Era un po' bello per essere vero, stavo per vincere Però, ormai è andato Ma no! Ma la sua boss ha dato in armi! No! No! No, no! Vieni! 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 Ma... Se no! Ma non è che cosa? Il mondo si uniscono per poi dividersi. L'anticipazione del prossimo gioco, mi sa. Penso. Pensa ad Aerith. No, è uscito di scena così. Sì. 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 Ma questo è bizzaro, Sivjord. Ma ci facciamo questo gioco? Sì. 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 è diventato guru lasciare un detto l'osso è solo io la mostrata si sta cambiando Allora, facciamo qualcosa di serio. Sì, è già finita la legenda. È proprio affrontando solo il boss finale. Allora, lo abbiamo colpito. Allora, facciamo qualcosa di serio. Piacere, portate all'inferno. Secondo me, devo continuare così. Sì. Eh, ma che roba? Si vede che può perdere al finale, questo. Ma che roba? Sopra di lui c'è Seifer, Seifer, che sta nascendo. Una versione di Minan, perfetto. Mamma mia. Non ho l'estensiva. Non ho l'estensiva. Ma già è una cosa che mi piace. Non ho l'estensiva. Non ho l'estensiva. Questa secondo me sarà la fase più difficile perché sono tre personaggi che insieme cozzano. Ma li uso io? Cioè Red e Tifa sono praticamente sostituti in una vicenda. Un la trovo. Un la trovo. Vado avanti tre ore. Mutismo trovate. Ma non mi non mi hanno avuto. Ma non mi hanno ammuto. Questa non mi hanno aspettato proprio. Per qual sto avrontando il diobato? Questa venера a che non mi non milaws? non sappiamo che fa male eh ma abbiamo quelle demonizzate abbiamo preso anche la metà dell'arma adesso faccio la metà di me faccio la metà di me alla destra vai E' un giro, è un giro, è un giro che era già ucciso! E' un giro! E' un giro! E' un giro! E' un giro, è un giro che si chiama! E' avvenuto improvvisamente. Va e' un giro! Quasi è andato eh! Ok! C'è la, 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 la... destra! C'è la, 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 la... destra! E' un giro, andiamo alla sinistra. E... non va un altro boom! Non è vero! 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 Sinergica! Oh, qual era? Non è vero! Non ha fatto granché come Dacca! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Ci ha la... Sulla lana a destra! Ora! Non è vero! Non è vero! Anche questa fase è terminata! Ora tocca a Zack! In solitaria! Non è vero! In seguito E' nata mente tosta! Un'altra cosa! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Ma il mondo che finisce questo! Come ti credo ho capito! Stato a Zack Light! Il mondo che si è reso! E' sto sefilo. Cavolo! E' un po' di solida. E' un po' di solida. Ategi il buono, bisogni eh! Sì! Allora! Sì! 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 Un cerchio magico di Aeris! Eh... Sì! Porra che stai teniamo! Sì! 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 Sono fatti! Sì! 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 Torrare da Elise! Allora, la chiesa! Com'è sinergica, è impossibile! No, 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 no. Purtriamoci Ma devo farragliere questo Purtriamoci prima che va via Purtroppo è anche questo Se uso una barriera magari Ehm, va male Va male ragazzi Ah ce l'ho già, cioè non ce l'ho Ok, bella Grazie Proviamo, stavolta, uno sprit Un sacco di OVA ulti ci siamo Un sacco di OVA Questa musica è bellissima E' nuova Completamente Pifa barre di Uffi, dai ci stiamo compando Un sacco di OVA Questa macchina è molto attivata Un sacco di OVA Un sacco di OVA Un sacco di OVA Ma tutti E' un po' più tigli, penso di aver capito come funziona Scegliamogli all'attività Quanto sta che sarà più importante Ah, proprio adesso è remuntata Ma non ce l'ho Un po' caiclo Non ce l'ho preso bene Non ce l'ha neanche lei La facciamo fiammare Sì, non ce l'ho preso Quanto sta E' un po' caiclo Si, non c'è Non c'è problema Io non c'è Ok ora ci vuole il cuore, però se possiamo usare questo è meglio ancora. Non ci sono danni elementari che spreca. Siamo dando i spazi! Oh no! Funziona! Qua che serviva è? Non lo sapete bene! Vai! Tutti a fuoco eh? Ho capito adesso! L'ho capito! Anche lei ce l'avrà Allora con lei usiamo Energibia Poi non riesco a vedere Stessa cosa a sinistra e passa la propria Vedo vedere come è fatto E non ce l'ho Non ce l'ho Però facciamo una cosa utile Penso che qua è importantissimo Partiamo pure Una giga pozione Barretti, qualcuno andrà togliata Non c'è nessuno Meglio il tiro togli niente Non ho nessuno che ha ripeto Pazzesco Ok siamo andati qua Possiamo andare ad Aeo Ce l'ha lei? Ce l'ha Barretta Aeo Oh Sì E' il momento Allora sarà il tetto e non col caminza Ma perché? Non ne sono nascere Ci sta funzionando Abbiamo ancora l'ora L'ora stiamo mutando e mi muova Ancora io No suoi Stai mutando e mi muoio Ok Guarda Oh no! Vai, non passa! Ce l'è anche lei, viu? Ok, andiamo! Stiamo danneggiando tutti! Oh no! Oh no! Oh no! L'attacco è questa! Cattifa! E' fatta! Perché voglio gli faccio il mazzo! Non posso usare nulla per aumentare la limite. In un frattempo, un barre, facciamo questo! C'è lei! Sinergica! Non basta neanche questo! Angelo Custode? Oh mio Dio, che mossa lì! Andiamo! 26 minuti di boss fight! Come quella prima, che trovate nel video precedente! Sì! 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 Ovvio che dovrà essere ciclotto! Ehi Alice! Ma che dimensione me l'hai evocata? Ehi Alice! Con piacere la faccio con lei! Odiamoci risparuti a volte! Questo è mio, ma non mi credo! Ovviamente! Ho ho ho! L'ha sentito! Pensavo di non sentire questo gioco! Guardate, ho reazione, ho reazione se mi dà una mossa Eh eh, via Non è dico uno scupido però E' scupido per tutte le ragioni, ma non fai stare Oh, lei che invece può rendersi utile Ok, l'ala, l'ala, dove sali l'ala? Lo faccio fuori volentieri sta l'ala Ah, l'asso è libero Si, un pochi ma zitta ma Zamune la spada non mi prendetela con lei posso usare delle abilità molto interessanti tra l'altro tipo cronofania rubiamo Claude non è Lara facciamolo forse non mi prendo si non mi prendo Oh facciamo una cosa non ho ancora fatto eh non me lo dice no 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 dobbiamoci oh oh no come un indi che regge messa a mare ma che è ignorante ecco quando usare il mio desiderio Non è sollte un problema. Non lo troppo grande! Ma non lo so! Ma non lo so! Ma non lo so! Non lo so! Ah, ma non lo so! Ma non lo so! Non lo so! No, les ti avciti! Come mi chiedo! No, non lo so! moltissimo oh mani questo dovevo guardare oh sono finite le regge otta colpo? oh boia ma questo mi ammazza preparavo a portarlo in vita e la barri degli cubani ho deciso come fanno e ieri stef bello ci siamo 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 Sì, Sì, Sì. Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Il finale della prossima parte, tutto il video verrà tutto il finale, fino alla fine, titolo di cuore a pochi mesi Grazie a tutti